Jungle Bella ragazzi, ben ritrovati in questo video un po' improvvisato perché SimDrivers.eu vi invita a un nuovissimo evento per questo sabato che viene, sì, tra due giorni nel pomeriggio con questa bellissima Senna McLaren GTR e siamo al Mugello circuito che tutti conoscete, 35 minuti di gara ragazzi vi invito tutti a venire, il server è già pronto con questo Mugello bellissimo qui la San Donato vado un po' largo, attenzione, adesso non sto tirando ragazzi sto guidando con una mano sola, qui arriviamo alla Luco ragazzi guardate che bello questo tracciato quindi l'appoggio secco e poi si arriva qui da lungo sulla Materassi tra poco, ah sono uscito ragazzi bello della presa in diretta senza tagli, senza niente quindi Borgo San Lorenzo ragazzi giù, gas a martello, cannone a destra sulla Casanova Savelli ovviamente quindi poi qui si arriva a bomba si parzializza Arabiata 1 quindi Arabiata 2 con questi voli di stratosferici e poi abbiamo la Scarperia ovviamente l'appalaggio sulla sinistra gas a martello terza, quarta quinta si arriva al Correntaio chi non la conosce questo circuito ragazzi al Bugello non si dorme mai poi Shikan Le Biondetti sinistra destra si deve forse parzializzare si esce un po' e poi si arriva alla Puccine si buttano giù due marci attenzione sovrasterzo forse forza gas a martello e via lungo rettifilo ragazzi proviamo a farlo in velocità allora viva ragazzi questo sabato alle 17 35 minuti gara qualifiche pratiche come al solito gran commento insieme a me spero di avere i miei soliti amici fedeli che verranno a commentare questo one shot evento McLaren Senna GTR bellissima seguida che è una favola potentissima leggerissima per ravvivare rianimare gli eventi SimDrivers in pausa per qualche qualche mese ma torniamo alla grandissima su AirFactor2 avrete ovviamente tutti i dettagli in descrizione con i link sul forum per andare ad iscriversi e ad avere gli orari e le credenziali di accesso al server ovviamente come al solito l'evento è gratuito il primo premio è il divertimento ragazzi per un sabato pomeriggio prima di uscire uno si fa una bella galetta con gli amici e poi si esce magari a mangiare una pizza il discoteca quello che volete sentite qua ragazzi che rombo mamma mia rugisce questa macchina impressionante biondetti ancora ma non si parzializza nulla gas a martello mai giù con il piedone bugine si fa attenzione si allarga un poco andiamo a stringere sul cordone se ce la facciamo c'è la nazione bruschissima e con questo a fine secondo giro ragazzi rinnovo l'invito venite ad iscrivervi per questo one shot event McLaren Senna GTR R-Factor 2 su Z-Drivers a prestissimo ciao grazie a tutti